C'è un grande onore, non solo per me, ma anche per l'architettura portoghese. E con questo premio io lo ricevo, come i miei colleghi, e la nuova generazione preparando il futuro. Perché l'architettura cambia, sta cambiando moltissimo. Io penso che si deve adeguare a una velocità enorme di cambiamento. Oggi per fare l'architettura non c'è tempo. I clienti chiedono perché tempo sono soldi. E allora dico, deve fare in fretta. E la qualità sta, venengo giù. Il mio progetto è questa idea. Una regione di Portogallo, quasi un deserto. Che c'era una magnifica villa agricola, un villaggio, che dopo ho ristrutturato per fare un hotel, senza perdere il suo carattere. Era facile fare un intervento radicale, contemporaneo, antico. Questa dicotomia già. Il problema è che se io facevo questo, distruggeva l'ambiente, che è la cosa più importante del patrimonio. Non è l'oggetto stesso, è l'ambiente che il patrimonio provoca.